Sentire pronunciare il proprio nome da una star del calibro mondiale di Madonna non è certo roba da tutti i giorni, privilegio che spetta Montecatini che sta vivendo il suo momento di gloria internazionale grazie proprio al volto della cantante italo-americana destinata a fare il giro del mondo. Ella è la testimonial della campagna promozionale di una linea cosmetica a base di acqua termale. La signora Ciccone fa fare così il giro del globo allo storico stabilimento del tettuccio dal momento che la pubblicità è destinata ai mercati di Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del Sud, Singapore, Taiwan e Hong Kong. Grande successo per il comune della provincia di Pistoia che stava lavorando al progetto dal 2016. D'altronde non è la prima volta che Madonna si presta a veicolo promozionale dei tesori toscani. Nel 2012 il video ufficiale della hit Turn the Radio venne girato tra Firenze e provincia. Qui la pop star girava sui lungarni e nella campagna mugellana a bordo di un'auto decappottabile lasciando così intravedere scorci suggestivi della regione. A distanza di sei anni rieccola e basta una crema sul viso per catalizzare l'attenzione. di sei di sei di sei di sei di sei